In questo momento bisogna compattare l'ambiente, bisogna riuscire a trovare una soluzione per uscire da questa situazione e poi si vedrà tutto qui. Noi stiamo lavorando sotto traccia tranquillamente, ci stiamo dando da fare per cercare di trovare una soluzione insieme a tutti. Siamo qui, siamo a disposizione di tutti, abbiamo dato il nostro appoggio a tutti e cerchiamo di risolvere il prima possibile questa situazione. Molto complicata, sarà molto lunga e vedremo di fare il massimo. Sono amante dell'Arezzo e voglio che l'Arezzo resti viva e ci riusciremo. Sì, bellissima risposta della squadra, siamo contenti, speriamo di proseguire e speriamo che entro il 16 dicembre di risolvere tutta questa situazione. Questa sera proporremo di compattare tutti e tireremo fuori delle idee per vedere di riuscire a risolvere la situazione. Ogni persona che è qui può dire la sua e può proporre la sua idea per andare avanti. Parlato del 16 dicembre è quella una data calda entro la quale provare a risolvere ovviamente la questione societaria perché il 16 dicembre ci sono altre scadenze che incombono. Sì, ho parlato del 16 dicembre perché è l'unica data che mi preoccupa in questo momento. Secondo me il 16 dicembre sarà Big Ben, il Presidente non onorerà gli impegni. Questa è la mia idea, questa è la mia opinione. Secondo me il 16 dicembre è il termine massimo per risolvere tutto. Ce la dobbiamo fare, dobbiamo compattarci tutti, stringere i denti e salvarci. In questo momento è importante salvarci, più fuori dal campo che in campo.